Quando iniziai avevo il problema del terreno, mi sono rivolto subito ai pastini, ma noi sono molto più venti, io mi sono cresciuto con questa maniera di pastini, allora avvicinai Paolo, Paolo è santo, gli avvicinai che ci hanno detto ma perché non mi hanno dato questo pezzettino di terreno, non abbiamo soldi per pagare, però diciamo, facciamo una fontana per il mondo agricolo che passa di qua, che serve questi altipiani, sono altipiani grandissimi, loro entusiasti subito mi dissero fai quello che vuoi, prendi quanto vuoi, non c'è nessun problema, mi hanno fatto pure il documento, perché è così che si fa, e mi dietro la massima disponibilità, per pensare agli agricoltori, ti dico la verità, voi dovete in mente il papà, Carmine Fastrino, Carmine Montrello, scusatemi se lo chiamo Fastrino, ma è il possibile, anzi io vorrei parlare in dialetto, non lo faccio perché se no poi quello della televisione comincia a fare le critiche, se no vorrei voluto parlare in dialetto da un agricoltore, perché bisogna anche di valutare questa categoria degli agricoltori e degli artigiani, io facendo una riflessione poco fa con il presidente Torchi dicevo, ma perché nelle nostre città, negli nostri comuni non abbiamo una strada, una piazza, un vicolo, intestato da un agricoltore, da un artigiano, da qualcuno del popolo, no, abbiamo solo intestato a medici, politici, professori, avvocati, magistrati, tutta gente che merita per la morte di Dio, ma penso che anche chi sacrifica la sua vita nel mondo agricolo, abbia diritto ad avere qualcosa, un ricordo, e allora io penso a Carmine Fastrino, per un uomo buono, anche la moglie ricordò bene la sua preghia, una donna buona, io da piccolo avevamo degli italiani, però ci sono spesso da casa loro, e mi è venuta questa, questa, come dire, ispirazione, di intestare la fontana a Carmine Fastrino, un grande avventura, un uomo buono, un agricoltore, padre di una famiglia numerosissima, mi siamo venuti da 11, è un uomo, è un uomo, è una cosa che io ho dovuto nel cuore, e sono contento oggi di tagliare insieme questo raso e inaugurare questa fontana, che penso resterà un simbolo per Fettiglia, io almeno spero che esiste un simbolo per Fettiglia, sia una cosa utile, ma non solo utile, ma che aiuta a ricordare anche che in questo momento non c'è più, io ho finito. Un applauso per Zio Carmine! Bene, abbiamo il Presidente della Coldiretti, il Dottor Torchi, a cui facciamo un'attività una domanda della sua presenza qua e in questo ambito della presentazione e della inaugurazione di questa fontana, un po' nei pressi sottostanti Fettiglia Policastro, che viene dedicata ad una persona, diciamo, normale. Sì, noi abbiamo condiviso e credo che sia anche da enfatizzare la scelta del Sindaco di Fettiglia di intitolare questa fontana a un coltivatore della terra, un coltivatore diretto, una persona che nella quotidianità ogni giorno abbia dato il suo contributo allo sviluppo e all'economia di questa terra, senza andare nelle notizie dei media, senza essere riportato alla cronaca della ribalta, ma con un lavoro oscuro, quotidiano, quello che poi fa andare avanti il nostro paese. Il riconoscimento a uno che rappresenta il nostro mondo. Lo sviluppo di questo territorio deve passare per forza dalla riscoperta del territorio e quindi dell'agricoltura e quindi del turismo, dei suoi beni. Allora, questo tipo di riconoscimento simbolico è comunque un segno dell'importanza strategica che questo settore e questa economia ha per il nostro paese. Presidente, è chiaro che parlando di fontana si parla di acqua, si parla di vita. In questo lembo agricolo, agrario, hai anche un simbolo positivo. Paradossalmente, nonostante il grande caldo che abbiamo, la Calabria è una regione ricca di acqua. Però ciò si stanno verificando. Noi dobbiamo utilizzarli in maniera più razionale e dargli il valore che essa merita. Su questo si giocano le sfide del prossimo, medio, futuro, immediato e poi medio, perché l'acqua è fondamentale per l'agricoltura, per i prodotti della made in Italy, quelli che poi ci permettono. Tra l'altro è l'unico settore della Calabria che ha un segno positivo nell'export agroalimentare. Quindi questo significa che l'importanza che ha questo settore, e questo settore senza acqua non si può pensare di poter produrre. E quindi vi è la necessità di investire in questo ambito, di riammodernare le reti già esistenti, ma di prevedere anche altre dighe di accumulo, perché probabilmente i prossimi decenni ci vedranno dei periodi in cui ci saranno grosse piogge, ma anche grossi periodi di siccità, perché stiamo andando verso questa tropicalizzazione del clima. E quindi bisogna cercare di prevedere, di far fronte alle dinamiche di questa evoluzione. Questo la dice lunga anche sul fatto delle bombe d'acqua. Non piove più come una volta, è chiaro che una bomba d'acqua in un certo periodo della fioritura ne va per la distruzione del futuro frutto. Una domanda così generica, come va il mercato agricolo nella nostra provincia, provincia di Crotone? Risente della congiuntura economica che stiamo vivendo. Se le vede le notizie c'è a picco il mercato della frutta, il mercato degli ortaggi, è per una mancanza di disponibilità economica e una maggiore razionalizzazione delle spese delle famiglie che non acquistano più del dovuto, più del necessario. Credo che fondamentalmente la nostra agricoltura debba ristrutturarsi e riattrezzarsi per confrontarsi con i mercati. Abbiamo la necessità di abbandonare quell'individualismo, quell'anarchia che abbiamo ogni singola azienda, probabilmente un fattore anche atavico che abbiamo nei nostri territori e pensare che i mercati possono essere affrontati e combattuti anche positivamente se ci si aggrega, se la quantità e la qualità cominciano a essere i fattori predominanti della produzione e del marketing. Bene, ne parliamo anche con Santino Scalise che è il consigliere del Consorzio di Bonifica e a cui facciamo la domanda, questa fontana che viene così oggi inaugurata viene dedicata ad un agricoltore, visto che abitualmente le opere vengono così dedicate a grandi nomi. Diciamo che questo agricoltore è un agricoltore particolare, tutti i appetili lo conoscono, era una persona esemplare, era un agricoltore allevatore che ha cresciuto una famiglia, gente onesta e pensa che su quel cucuruzzolo lì, lontano dal comune, sempre senza luce, senza acqua, è riuscito a crescere una famiglia che poi loro a sua volta si sono sposati, hanno una famiglia numerosissima, stiamo parlando di Carmine Manfreda, lo chiamavano tutti Carmine Fastino. Il sindaco e l'amministrazione hanno voluto fare questa fontana qui perché prima c'era più sotto, ma era ricadente in un altro comune, hanno inteso chiuderla e diciamo è una cosa questa che prima delle elezioni ne avevamo parlato, ripristinare questa fontana per la gente che va al mare, la gente che va nelle campagne e poter prendere l'acqua. Questa è una bellissima fontana, è stata fatta con pochi soldi, hanno collaborato anche i familiari del compianto Fastino che proprio tre o quattro giorni fa fece due anni che era morto. Ringrazio la televisione che sono qui presenti, oggi qui sono presenti le associazioni agricole, pettiline e provinciali. Sono presenti anche il direttore dell'Ara provinciale, Francesco Coluccio, il presidente del Consorzio di Bonifica, Ionio Crotonese, Torchia. Bene, ne parliamo anche con Alfonso Filice che fa parte del Fletch GL Crotone, sempre nel mondo agricolo. Ecco, il tuo pensiero su questa inaugurazione di questa fontana? Vabbè, c'è da dire una cosa che ogni tanto una notizia di questo tipo fa bene perché dedicare una fontana a un agricoltore vero è una cosa di buon auspicio, in genere... Cosa sta cambiando? In genere si fanno queste inaugurazioni dottori, ingegneri. Ci sta pure, ma dare un riconoscimento a una persona che io tra l'altro conoscevo pure abbastanza bene tramite il figlio Salvatore perché è una famiglia straordinaria di agricoltori perché non solo il papà era agricoltore ma ha trasmesso questa cultura ai loro figli e con devozione perché loro fanno gli agricoltori ma con devozione. Quindi per l'agricoltura è un segno molto importante perché è da qui che bisogna ripartire altrimenti questi nostri territori andranno a finire e ripartire proprio dall'agricoltura, dall'agricoltura di come era un tempo, forse adesso un po' meccanizzata ma con quei valori, quei principi che si sono poi persi nel corso della storia che sappiamo pure legati a problemi di globalizzazione e altro. Ci fa molto piacere presentarvi in pratica una parte della famiglia, lui è Carmine Manfreda, stesso nome del nonno a cui viene intitolata la fontana. Carmine, si parlava appunto del grande segno che ha dato tuo nonno a questa zona, all'agricoltura e di tutto ciò che se ne parla molto bene di tuo nonno. Chi era tuo nonno? Mio nonno è stato una persona che ha cresciuto una famiglia, una famiglia molto larga perché comunque 12 figli cresciuti in questa zona, ha saputo creare un'armonia e ha saputo mandare avanti tante situazioni che all'epoca erano dure da mandare avanti. Non era facile? Non era facile infatti, creando dal niente perché qui c'era solo del terreno, ha saputo piantare questa zona, credere in questa zona perché ha costruito qui, ha cresciuto una famiglia appunto qui quindi ha portato avanti un suo sogno dove oggi siamo arrivati a questo punto qua a dedicargli una fontana nel nome suo. Beh, penso che sia una bella cosa, poi diciamo in questo luogo una fontana, acqua, acqua che significa vita insomma perché no, insomma dare così un bel ricordo a tuo nonno ecco. Ecco, un significato giusto come hai detto tu, l'acqua significa vita perché le persone che passano da qua possano dissetarsi e leggere qua questo che mi vuoi dire. No, no, ti posso dire una cosa, che questa è proprio una bella zona dove si ferberanno tutti ecco e leggeranno il nome di tua nonna. E noi ne saremo orgogliosi e contenti. Sindaco, è stata una bella cosa dedicare questa fontana ad un agricoltore e poi diciamo soprattutto al signor Manfrede. Certamente, intanto salve, saluto tutti i telespettatori, è stata una cosa che io avevo già pensato durante la campagna elettorale, avevo pensato allorché torsero la fontana che è più sotto che rientrava nel comune di Rocco a Bernardo e giustamente il sindaco, anche per un fatto igienico spostò quella fontana andando dall'altro versante della strada. Chi scende da Petiglia per andare verso il mare o gli agricoltori che erano qua vicino non potevano più soffrire. Ne avevo pensato sempre questa cosa qua. Poi diciamo che nel mese di giugno mi trovai a parlare con i figli di Carmine Fastino e gli dice se mi davano un pezzo di terra qua perché avrei voluto realizzare una fontana una fontana con acqua della Siria chiaramente, questa è l'acqua di Lanzaporco è una delle acque più pure che esistono, più potabili ma più pure e loro senza chiedermi niente, non sapevano però che io avevo intenzioni di dare il nome al padre di questa fontana, mi dissero subito di sì, va bene? Mi dissero di sì, ho realizzato la fontana, ho espresso 3500 euro, l'ho fatto in economia con gli operai del comune, come al solito perché a Petiglia adesso si fanno i lavori in economia con gli operai del comune, sono poche le ditte. Perché la domanda era appunto quella poi, con quali fondi? In economia come tanti lavori si stanno facendo in economia a Petiglia, ci è cambiata la tendenza perché io penso che Petiglia ha un bel manutentivo, gente in gamba, capace che non era stata utilizzata per le capacità che avevano io sto riscoprendo questo modo nuovo di fare opere pubbliche, ovvero in economia penso che io tutto, compreso il materiale qua, ho speso in tutto 3.000-3.500 euro Soltanto? Sì, come vedi le cose cambiano. E allora ritornando al vecchio discorso, io ho pensato di dare il nome a un agricoltore Camile Fastino era un grande agricoltore, un uomo buono, io l'ho conosciuto da piccolo era molto piccolo quando io frequentavo la sua casa che era lì sopra e allora non c'erano alberi in questa pianura, qui c'è un altopiano di quasi un centinaio di ettari dove non c'era un solo albero, c'era solo la casa di Manfreda aveva una tettoia in legno, ricordo, e ci ospitava tutti chiunque passesse di là ci faceva sedere, ci offriva nel caffè la moglie, sia Clelia, ricordo ci offriva un caffè, ci offriva un bicchiere d'acqua fresca, gente disponibile, un agricoltore un agricoltore di quelli veri, quelli col cuore in mano e io poi ho fatto un'altra riflessione ma noi abbiamo tantissime strade, vie, viuzze, piazze, piazzette, strade ma non mi è sembrato di vedere intestato a qualche agricoltore, a Petiglia Policastro qualcosa ma nemmeno nei comuni limitrofi, di quello che so io ma perché gli agricoltori non sono una categoria di rispetto o una categoria che merita è una categoria che fa molti sacrifici ne fa molti di più di chi sta seduto dietro una scrivania sono gente che sta sotto il sole 12 ore al giorno a volte ci sta 16 ore al giorno beh, magari non portare a casa manco uno stipendio decente e allora è gente che si sacrifica e io ho voluto premiare freddo con l'acqua freddo con l'acqua, senza a volte manco un riparo ho voluto premiare questa persona prima per la sua bontà poi per quello che ha rappresentato e per invertire una tendenza anche gli agricoltori, gli artigiani ma tutte le categorie produttive hanno diritto di avere un riconoscimento pure loro li trattiamo sempre come gli ultimi l'ultima rotta del carro Sindaco, qualcosa sta cambiando sì, ma deve cambiare deve cambiare e io ci credo, guarda io ci credo perché bisognava dare pure i meriti a tutte le professionalità qua invece si pensava all'avvocato al professore, al medico e poi? in realtà al politico esatto sì i politici, i politici in molte strade hanno i politici intestate lasciamo perdere beh, oggi vediamo bella gente qua a questa... bella gente spontanea ringrazio pure il corpo forestale che vedo presente ringrazio le autorità ci sono diversi sindaci beh, sono contento sono contento di questa giornata bene, grazie grazie grazie